Ucuco, incredibile! Adesso prova il tiro di Aquilani da fuori! Bello! Bello! Grandissimo! Aquilani! Non ti incattiscono sui... Aquilani, grandissimo! Che grande gol di Aquilani, signori! Questo è un fiotti giocatore che la Juve! Guarda, guarda! Adesso, Sonia, anche Sonia... L'ha tenuto nascosto, adesso lo tirano... Stefani Penello, tiro, piattissimo, gol! Ed è 2-0! Grande Felipao che ride e balla! E balla anche Felipao! Allora, come... E balla! Guarda, va a ballare, va a ballare Felipao! Guardalo che balla! Va a ballare Felipao! Ah, uh, Felipao! Come Marcellano, hai visto? Grandissimo Felipao! Grande Felipao! Si ricorda, il genere ha visto il balletto più volte ripetuto? Così e poi... Marcello, grava gli affetto! Fate le buchiare! Felipao, grandissimo! L'1-2, riesce in tenersi, entra dalla destra! Ma lui è l'uscita, partire è l'uscita e poi sulla linea di turno di testa! La mette dentro qua, Gliarella! Ed è terzo gol e poi chiama, raccolta i compagni! E balla anche lui! E balla anche lui! E balliamo tutti oggi! Si balla, tutto il gruppo che balla! Il ballo di Marcello! Grandissimi! Dovresti farlo vedere questo! Cos'è per far vedere questo? Tutti che ballano! Nel senso che è il tuo ballo, quello! Va bene? Allora... 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 Lo dicevo, lo dicevo, senza aver la laurea del calcio e c'ho l'altra laurea. E che segnava e ha segnato a segnato. Aquilani, stiamo prendendo campo. Felipe Meno, dai ragazzi, crediamoci. Felipe Meno, sulla tre quarti in avanti, perde il Piero. Nel Piero tira la palla, la dà sulla destra, dove c'è De Ceglie. De Ceglie mette il pallone in mezzo, di testa. Go! 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 Ecco come fa a segnare, ecco come fa a segnare. Juve, storia di un grande amore, bravo che abbraccia di lei. Nel Piero, si sottò, ma non riesce, scivola, ricupera ancora il pallone. Si sottò, dai indietro, Del Piero, dino. Go! Go! Del Piero! Go! 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 Storia di un grande amore, bianco che abbraccia in me. Iacquinta, 3-1. Chi è? A chi? Me l'avete tirata. Me l'avete tirata, terzo gol. Iacquinta, ma bellissimo. Ma bellissimo. Ma bellissimo, nell'angolino del 7. Oh, 7. 1-2, Grosso, si libera, arriva fin sul fondo, Grosso. Poi una finta, ancora lui, mettila in mezzo. Poi ancora Crasi, vieni in mezzo. Oh, screma! Oh, screma! Oh, screma! Oh, screma! Oh, screma! Regolare, regolare, regolare! Regolare, regolare! 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 Guarda! 2-0! 2-0! 2-0! Matri! Vai! Vai! Allora, attenzione, doppio! Doppio! !